C'è apprezzione a Niscemi per la possibilità di chiusura della casa di riposo giugno, sia per i lavoratori che vi operano che per gli ospiti, le cui famiglie potrebbero essere costrette a breve a trovare con urgenza nuove sistemazioni per i loro cari. Vicenda della quale si è interessata anche la politica locale nei giorni scorsi. Sulla questione è intervenuto anche il sindacato Snalv-Komsal, che ha convocato per mercoledì 31 agosto alle 11 un'assemblea sindacale di tutto il personale della cooperativa Auxilia, che gestisce la casa. La situazione non sembra essere del tutto chiara, in particolar modo sui motivi alla base della paventata chiusura della struttura, visto che finora sono state avanzate solo delle ipotesi, tra cui quella legata alla presunta inagibilità della struttura stessa. Nel pomeriggio sempre del 31 agosto è prevista, alle 17, una seconda riunione dei lavoratori per discutere anche dell'esternalizzazione che regola i contratti di alcuni operatori. L'organizzazione sindacale, tramite il referente provinciale Manuel Bonaffini, ha inoltre lanciato un appello alle varie istituzioni politiche, all'ASP e anche alla prefettura, perché venga adoperato uno sforzo congiunto per scongiurare il rischio della chiusura della casa di riposo.